Come Regione Lombardia abbiamo fatto una legge anche molto equilibrata perché non chiedeva niente di più se no una serie di adempimenti e di controlli aggiuntivi tipo un banale impianto di videosorveglianza che penso che tutti siano d'accordo sia necessario, ma anche fuori dalle chiese, per l'amor di Dio non muore nessuno e peccato che il Governo l'ha impugnato per motivi sostanzialmente ideologici. Questo è avvenuto prima dei fatti di Parigi, per cui ci auguriamo che il Governo torni sulla sua posizione e rinuncia all'impugnativa della nostra legge, magari diffondendola anche in altre aree del Paese perché è di assoluto buon senso. Però scusi, dall'altra parte se poi non facciamo le moschee quelle invece normali, legali, cioè a Milano si discute da una vita di fare una nuova moschea, forse dovremmo invece incoraggiare a fare delle moschee fatte come Dio comanda e evitare le moschee nei garage, le moschee di cui non sappiamo nulla. Ma c'ha ragione da vendere, è quello che prevede la legge che abbiamo fatto noi, coinvolgendo anche i cittadini, perché anche nell'inserimento urbanistico di una moschea, ma anche di una chiesa, bisogna tener conto del parere dei cittadini per farlo in modo ragionato, ragionevole, verificare anche da dove arrivano i fondi, non è una cosa secondaria e poi che ci siano dei controlli, tipo appunto l'impianto di videosorveglianza che consente di verificare la presenza di soggetti è una cosa a grado di...